Buongiorno, oggi è domenica, domenica 2 di maggio e sono in macchina, sto per andare al raduno delle auto storiche che è anche la riedizione della famosa Formula 1 che si è venuta intorno agli anni 40-50 a Bari, quindi un'occasione per tirare fuori le nostre vecchie signore, per andare tutti quanti insieme a Bari, parcheggeremo in via Sparano, si spera con un parcheggio custodito, un'occasione per stare tutti insieme, un'occasione per mostrare la passione che ci unisce nel tenere ancora viva queste vecchie signore che sono quasi tutte degli anni 60-70, c'è anche qualche auto del 40-50, in questo momento sono a bordo della mia Silver Shadow del 1970, una Rolls Royce, girare con queste due auto è un piacere, perché veramente sembra di fare un tuffo indietro nel passato, vederle insieme già da forti emozioni, immaginiamo quando le vedremo insieme ad altre, quando ci saranno più auto tutte insieme, la silenziosità di questa macchina e il comfort sono assoluti, quindi niente di più facile, nonostante abbia la guida a destra come tutte le auto inglesi, un po' di buona musica, musica rigorosamente anni 70 e niente, continuiamo questa passeggiata e a risentirci a fra poco, ciao! Oh, a fa il meglio da qua, di qua! Ah ah ah! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.